Ecco cosa sta facendo in questo momento qui in Veneto. Si è scatenata la bufera, alberi che si piegano, cielo nero e pioggia. Non si vede molto bene in un video, ma vi assicuro che c'è il finimento. Voglio parlare di un prodotto che può migliorare la qualità della vostra vita.